E' Rando Pei, nata nell'aria e nei suoi fantastici reni, quest'opera è stata ideata e creata sulla figura del cantore di tutte le creature, il menestrello di Dio, l'Arando del Gran Preto, Santo Francesco d'Assisto, creato lui stesso dell'aria, tesoro e ricercatore della prefetta di Dio. Di lui racconteremo ora una delle storie più belle, ormai una leggenda di sé, storia che accade tutta nell'aria, dove si muovono e canti e danni le moltitudini di uccelli, compagnie e compagni medielli di Francesco. Ecco tutti i protagonisti di Eralde, leggenda e musica. Francesco d'Assisi, gli abitatori dell'aria, è un altro personaggio, anche esso, proprio in quanto l'aria, creatore dell'aria. L'Arcancio noniché, grande amico, come è saputo, di Francesco, chiamato qui come cantore. La storia accade in un pomeriggio assolato, tra le colline e i campi declinanti dell'Umbria, la dolce terra, quando Francesco... Ma è tempo che il primo suono, il primo suono, si espalda nell'aria. E la vostra, ora, incomincia. La storia accade in un pomeriggio assolato, tra le colline e i campi declinanti dell'aria, La storia accade in un pomeriggio assolato, tra le colline e i campi declinanti dell'aria, La storia accade in un pomeriggio assolato, tra le colline e i campi declinanti dell'aria, Francesco, che camminava con i suoi compagni, con terrore e mente di spirito, senza considerare via o sentiero, si trovò tra cannaio e bevario, elevando gli occhi di te. A quanti altri vi è andato alla via, in sui quali, come nei campi intorno, una molte in cui desterminata di uccelli di varie specie, se l'ha dato un pezzo. Appena lì, Francesco, tutto allegro, li salutò, e subito a me, con grande stupore e gioia del tenestrello e arato, di Dio, se ne lettono a lui tutti i quali. Mentre Francesco, pregumosamente, gli esoltava ad ascoltare la parola di Dio, essi si voltavano verso di lui, poi spettano tempo. Così Francesco, fattosi un grande silenzio, cominciò a parlare lui. Sorelle e fratelli miei e arati, voi dovete lodare molto e sempre amare il vostro Creatore e sempre e in ogni luogo vi dovete lodare, perché vi diede le piume per vestirli e le arati e la vera libertà di spaziale nell'aria limpida. E Dio vi dà gli fiumi e le fonti per il vostro Vero, e dargli i monti e le valli per il vostro rifugio, e gli arati per fare i vostri vini. E Dio vi feste, voi e i vostri figli. E Dio vi feste, voi e i vostri figli. E Dio vi feste, voi e i vostri figli. E Dio vi feste, voi e i vostri figli. E Dio vi feste, voi e i vostri figli. A ciò che la vostra specie non venisse meno nel senso. Ed Egli vi soccorre e guida, voi e i vostri figli. Onde molto vanno il vostro Creatore, poiché Dio vi dà tanti benedici. E però guardatevi, sorelle e fratelli alati, dall'ingratitudine. E così io vi benedico, e vi invito a che sempre vi studiate di lodare il Creatore. Il Francesco, criticato, Egli passava in mezzo al mondo, con mirabili e percorri di spirito, senza che nessuno si muovesse dal suo giusto. E insieme con loro, si rategrava e dilettava, e maravigliavasi molto di tanta moltitudine di creature dell'aria, del vento e del cielo. E della loro bellissima varietà, attenzione e familiarità per la qualcosa. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Le Creature dell'aria, del vento e del cielo, tutte si sforzero a Santo Francesco per ringraziarvi. E nel silenzio, di nuovo soprattutto, l'Arcangelo del Cereo, iniziò questo canto, che si spadeva tra la terra e il cielo. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. Egli in loro grande mente lo dava il Creatore. A presto. 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 A presto.